Siamo di nuovo a Il Giornale, la sede storica di Via Negri a Milano, con me uno dei più famosi giornalisti e firma autorevole del Giornale, ovvero Vittorio Feltri. Innanzitutto grazie per averci accolto nel suo studio. Grazie a loro. Lei ha scritto proprio nei giorni scorsi un apprezzatissimo editoriale su questo bidone che si chiama Europa. Se ne è accorto pare anche il buon vecchio Scalfari, però voi sono anni che lo dite, che questa non sarà mai un'accordata di solidarietà e di bontà umana, ma semplicemente un carrozzone burocratico. Sì, le cose stanno così. Inoltre l'Europa non ha mai dimostrato nessun tipo di coesione se non quella fasulla monetaria. Quindi aspettarsi dall'Europa, per esempio, una qualsiasi organizzazione è puramente veleitario. In effetti stiamo vedendo in questi giorni, anche di fronte al problema gravissimo dell'immigrazione incontrollata, l'Europa assiste smarrita senza neanche dare un'indicazione. E quando ha dato un'indicazione, mi riferisco alle cosiddette quote, non ha ottenuto niente, ciascun paese si comporta come crede più opportuno. Cosicché l'Italia si trova a gestire una situazione drammatica e superiore alle proprie forze. Ma se l'Europa non è in grado neanche di fare questo, vuol dire che non ha nessun significato tutta l'impalcatura europea. Un'impalcatura che serve soltanto a tutelare i finanzieri e le banche attraverso il controllo monetario che peraltro abbiamo visto l'euro non ci ha mai favoriti, agevolati, ma non soltanto noi, anche altri paesi. Forse l'unico che ha tratto qualche vantaggio è stata la Germania. Fra l'altro la signora Merkel non si capisce a quale titolo comandi l'Europa e tutti gli altri, mi risulta, vanno da lei a baciarle la pantofola e quindi siamo di fronte al quarto Reich. E questo non può stare bene. Io sono convinto che un'Europa politica, un'Europa che avesse un denominatore comune anche economico, culturale, avesse delle leggi in comune, allora potrebbe anche avere un senso. Ma è un'Europa che si limita ad avere una moneta unica, per il resto non c'è nessuna coesione.